Continuiamo a parlare di manovra, di legge di stabilità, lo facciamo con un ospite, Giorgio Soria del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ha sentito la nostra Paola Motta per il nostro Gianluca Semprini, ci hanno raccontato un po' di queste mance e mancette. Voi vi siete battuti perché non venissero approvate, però alla fine il vostro sforzo è stato inutile. Siamo riusciti a toglierne qualcuna e nella fattispecie entrarò nel dettaglio magari più avanti. Io ho sentito un servizio molto importante in merito per l'appunto alle marchette e alle mance. Allora nel 2009 è stata fatta proprio una legge che è la 196 del 2009 che è entrata in vigore il 1 gennaio del 2010 che ha proprio lo scopo di togliere tutte le norme localistiche e microsettoriali dalla legge di stabilità. E questo l'abbiamo sentito. Esatto. Questa legge però in realtà non è mai stata in un qualche modo rispettata in queste leggi di stabilità e tantomeno è stata rispettata in questa legge di stabilità del governo Renzi. Lei pensi che io, girando un po' le nostre città, io mi rendo conto del degrado che hanno le nostre città e molte delle zone dove viviamo. E questo degrado non è altro che il riflesso del degrado politico dei partiti nel momento in cui si discute la legge di stabilità. Perché se lei pensa a tutti i nostri comuni, a tutti i nostri comuni virtuosi, al taglio che hanno ricevuto i nostri comuni, non si spiega il perché un comune solo, come il comune di Campione, debba ricevere milioni di euro. Si è detto 9, in realtà nella formulazione iniziale erano 12 milioni di euro quando non è un comune che in realtà possa essere preso come esempio. Mentre tutti gli altri comuni d'Italia continuano a subire dei tagli che poi si... Ma il Movimento 5 Stelle, è chiaro il suo ragionamento, mi dica il Movimento 5 Stelle che cosa può fare per arginare questo brutto vizietto. La nostra finanziaria, la finanziaria del Movimento 5 Stelle, che è una finanziaria dove non arrivano i deputati con i singoli pacchetti di emendamenti e chiedono per le loro fondazioni, per le fondazioni delle loro mogli, dei soldi. Ma fanno delle manovre strutturali, facciamo delle manovre strutturali che servono all'intera collettività. Degli esempi particolari in questa legge di stabilità che siamo riusciti ad arginare era un emendamento, per esempio, che andava a una fondazione sola di Roma e quella fondazione si scopre che è diretta poi da una first lady del Partito Democratico sia una moglie di uno degli esponenti più rappresentativi del Partito Democratico e l'emendamento era difeso proprio da questo esponente in Commissione Bilancio. Ecco, tra tutti gli enti che ci sono in Italia, sembra sempre strano che poi quelli che ricevano i soldi siano le scuole private, le fondazioni legate al Partito Democratico, le fondazioni guidate da ex membri del Governo o correlate a membri attuali del Governo. Ecco, ma diciamo che questa è una mala politica che siamo abituati purtroppo a raccontare con la cronaca. Ma mi sembra che Renzi aveva detto che avrebbe cambiato tutto, invece in realtà non sta facendo altro che rafforzare e velocizzare questa metodologia. Noi come Movimento 5 Stelle mi ha detto che è riuscito a far passare qualche emendamento che ha permesso che questi contributi che venivano elargiti con la legge di stabilità venissero arginati, venissero mantenuti. Mi fa qualche esempio pratico? Cioè c'erano degli altri comuni tipo Campione? Allora, no, le faccio questo che ho appena detto, che erano 6 milioni di euro che andavano destinati direttamente alla Fondazione Roma Europa che naturalmente crediamo che ci siano tante altre strutture che non meriti. Ma i forestali calabresi con tutto il rispetto? Questo è un altro scandalo, non tanto per i forestali in sé, perché guardi, il Governo Renzi ha dichiarato di voler accorpare il Corpo Forestale dello Stato ai Carabinieri, faceva intendere, per un risparmio di 30 milioni di euro. Poi in questa legge di stabilità destina 20 milioni di euro agli operai della forestale che non è neanche quindi direttamente controllato dal Corpo Forestale dello Stato. E quindi è praticamente una dislessia del Governo perché va in contrasto con quello che racconta. E questo semplicemente perché c'è un gruppo politico calabrese all'interno del Partito Democratico che ha bisogno di un tornaconto elettorale e quindi creare ed aumentare il progetto vaccino elettorale. Le faccio sentire l'intervista di Maria Latella che l'ha fatta al vice segretario del PD Serracchiani che di fatto esclude la possibilità di un accordo sulla consulta di un nuovo accordo con il Movimento 5 Stelle o che comunque possa tenere un'intesa futura. Sentiamola e poi me la commenta. Noi vogliamo governare e governare gli interessi del Paese. Loro continuano a fare opposizione, per una volta tanto hanno capito che bisogna anche guardare a quelli che sono gli interessi del Paese. E quindi abbiamo fatto semplicemente quello che ahimè non riuscivamo a fare da troppo tempo cioè eleggere i membri della Corte Costituzionale. Credo che sia stato un servizio reso al Paese. Se lei mi chiede se questo nostro accordo durerà nel tempo direi proprio di no. Mi pare che gli stessi problemi li hanno avuti i membri del Movimento 5 Stelle guardando anche la rivolta che c'è un po' stata dalla base proprio semplicemente per aver fatto questo servizio al Paese. I dati sono molto chiari. È dal 12 giugno del 2014 che si va avanti con la questione della consulta. Con 30 votazioni mancate e le uniche due che sono andate a buon fine sono le due dove è stato interpellato il Movimento 5 Stelle ma soprattutto dove è stato utilizzato il nostro metodo ossia quello di non avere dei nomi ma avere dei profili avere delle personalità di tutto rispetto da inserire all'interno della Corte. Ecco, quella la dimostrazione è che finché il Partito Democratico continua a ragionare da vecchia politica volendo utilizzare quelle come poltrone da dare come contentino ad alcuni membri legati al Partito Democratico non andrà mai avanti. Invece c'è una forza politica che è il Movimento 5 Stelle che siamo noi che ha dimostrato di utilizzare un metodo di tutto rispetto un metodo da governo che vogliamo continuare a utilizzare quindi nel momento in cui avremo la possibilità di dimostrare ancora una volta di essere forza di governo lo faremo e sbloccheremo... Secondo lei è forza di governo? Nel senso, questa posizione di rottura visto che non riuscite a dialogare o comunque arrivate fino a un certo punto poi c'è la rottura voi riuscirete mai a governare? Noi riusciremo a governare... Come? Per il semplice fatto che la posizione di rottura è nei confronti del governo Renzi che fa parte della vecchia politica a lei sembra normale me lo dica lei però a lei sembra normale che si utilizzino le poltrone della Corte Costituzionale per dare un contentino a membri del partito a lei sembra normale che si voglia controllare la Corte Costituzionale per poter alzare il telefono e chiedere ai membri della Corte Costituzionale di far passare o non passare la legge Quello è una delle istituzioni più forti e più importanti del nostro Paese che deve concordare le leggi e far rispettare le leggi in funzione della Costituzione deve essere un'istituzione che è completamente indipendente dei partiti questa indipendenza la riesce a portare solo un movimento che è completamente indipendente da questi ragionamenti ed è questo il buon governo che dobbiamo fare Ok, nei sondaggi voi siete testa a testa con il PD anzi qualcuno diceva addirittura che siete in vantaggio questa cosa è già accaduta però poi alla fine c'è stato un riscontro quando si è andato in cabina elettorale totalmente diverso perché e soprattutto se questi sondaggi dovessero essere diciamo veri voi pensate di riuscirli a confermare alle urne? Giriamola la domanda Assolutamente ma guardi quello che stiamo dimostrando è che dove riusciamo ad entrare nelle istituzioni a livello regionale a livello locale vi hanno dimostrato in Parlamento riusciamo a portare delle buone pratiche che vanno nell'interesse dei cittadini riusciamo a distruggere completamente quello che è stato fatto dai partiti che è completamente correlato a pratiche cattive e creare una nuova politica creare un interesse nuovo per i cittadini e dare soprattutto delle risposte a quelli che sono i problemi che attanagliano i cittadini da parecchi anni quindi quello che noi cerchiamo e cercheremo di fare e che sono sicuro riusciremo a ottenere è far capire a tutti i cittadini che c'è bisogno di votare il Movimento 5 Stelle per andare nel loro interesse sia dalle amministrative fino a livello politico e grazie al cielo la dimostrazione è il sempre più alto consenso ma la sempre più alta risposta che abbiamo dai cittadini che oltre a votare il Movimento 5 Stelle si attivano dando una mano a livello locale e dando a disposizione il loro tempo per i progetti per i propri comuni va bene vedremo in futuro se la vostra lettura politica vi porterà poi a frutto e ovviamente questi sono gli auspici che lei mi ha elencato io la ringrazio per essere stato con noi grazie mille a voi buona giornata